Da quando è stata riaperta l'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic, permangono notevoli dubbi relativi alle prime indagini, che hanno suscitato molte perplessità nell'opinione pubblica. Liliana scomparve da Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e fu ritrovata tre settimane dopo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico triestino. L'autopsia indicò che la causa della morte doveva essere un scompenso cardiaco vicino alla data del ritrovamento. Le prime indagini si protrassero per oltre un anno, ma successivamente venne chiesta l'archiviazione poiché si ipotizzava un suicidio. Tuttavia, l'opinione pubblica e i familiari, tra cui il marito Sebastiano Vicentina, il fratello Sergio e la nipote Veronica Resinovic, non accettarono questa conclusione e presentarono opposizione. Di conseguenza, le indagini sono state riaperte. Attualmente, gli investigatori stanno riesaminando numerosi dettagli delle prime indagini e alcune persone, tra cui Claudio Sterpin, che si dichiarava amante di Liliana, e Paola Calabrese, docente di chimica farmacologica e youtuber, sono sotto l'attenzione degli inquirenti. È emerso che nel corpo di Liliana è stata trovata traccia di idrossichinolina, una sostanza insolita che solleva interrogativi sulla sua morte e sulla possibilità di spostamenti del corpo. Questi elementi alimentano il sospetto che Liliana non si sia tolta la vita il 14 dicembre come inizialmente ipotizzato. Lascia la tua opinione nei commenti. Iscriviti e metti un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video.